Aveva evaso le tasse per due anni di fila, più di 220.000 euro nel 2016 e quasi 270.000 nel 2017, occultando la reale situazione contabile che è stata ricostruita grazie alle mirate indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Fano. Nel mirino delle Fiamme Gialle, il titolare di una ditta individuale, classe 1964, residente nella frazione Lucrezia di Cartoceto. La Guardia di Finanza di Fano ha eseguito un decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Pesaro nei confronti di una ditta risultata essere evasore totale perché per gli anni di imposto del 2016 e 2017 non ha presentato la dichiarazione dei redditi e ha occultato le scritture contabili. I finanzieri di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, hanno quindi provveduto al sequestro preventivo di beni appartenenti all'imprenditore per un importo equivalente a quello evaso e dunque di circa 500.000 euro. Ad essere sottoposto alla misura di sequestro, il denaro presente sui conti correnti bancari dell'uomo. Due terreni situati nel comune di Terre Roveresche, due automobili e tre motocicli. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per l'individuazione di altri beni e disponibilità riconducibili all'evasore. L'uomo, titolare della ditta individuale e operante come agente e rappresentante di prodotti non alimentari, si è reso responsabile della distruzione delle reali scritture contabili, per impedire la ricostruzione corretta dei redditi conseguiti. Oltre alle sanzioni amministrative, l'imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro, la quale ha poi dato il via al sequestro dei beni in possesso dell'uomo. L'azione della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro di operazioni volte a contrastare i fenomeni di illegalità messi in atto dalle imprese che frodano il fisco, e a difendere invece le imprese e i contribuenti onesti in un momento in cui la crisi sanitaria ha indebolito anche il sistema economico locale.